E' il nuovo regolamento per i bed and breakfast che l'assise è pronta a varare e che prevede la chiusura obbligatoria per almeno tre mesi all'anno di queste strutture ricettive a tenere banco nel prossimo Consiglio Comunale fissato per lunedì 30 settembre a Palazzo di Città. Mentre per la lunga vicenda degli istituti di partecipazione c'è bisogno della maggioranza qualificata, per il nuovo regolamento sui B&B l'opposizione annuncia battaglia. La prima commissione non ha ancora espresso parere nella qualità di vicepresidente e di intesa col presidente Leonardo Gallo annuncia di provvedere a convocare un'apposita sessione a seguito dell'incontro che si terrà domani pomeriggio con gli operatori, gli interessati e le associazioni di categoria a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Napoli, dell'assessore all'annone al bilancio nonché del presidente della commissione annona.